Sì, se entri Non sparate Ok, dai Sarà il Bygoth immagino Io sta a sparare proprio le cannonate Io mi sono Io sono qua su B Io mi sono postato col peccineg Io mi volevo mettere sopra un'arma a casa Ma c'è il Bygoth che le sta distruggendo tutte Mettiti sopra la cassetta Che era armato, che era armato, che era armato Eh, venite da meno a mano Sennò non tiro due Ho preso con l'RG Dai, dai, dai Dai L'ho distrutto L'ho distrutto Ragazzi, ma non è che possono passare Tutto da sinistra di B? Uno a destra Beh, ne ho falciati due col peccineg Io intanto Allora, ma che ti hanno fatto, dai? Ho messo un patto al carro, se non mi venite a riparare Oh, che cazzo Oh, il geniere deve essere pronto a riparare, è importante Va bene, va bene, ok, ok, ok Io sono appostato a destra Io sono appostato a destra Venner e Simo siete un po' nei pressi della bomba? Io sono... Sì, sono nei pressi della bomba Oh, faccio! Voglio... Eh no, mi ha preso, eh Sì, ma Simo, ti sei messo geniere? No, è solo cieco Mettiti geniere che li sono i veicoli Mettiti geniere Che qua è un casino, se no Ne ho uccisi due C'è il geniere libero che sta andando su A Spawno su Simo Simo, vai a controllare A, veloce Ah no, tranquillo, ho sistemato io Ok, buona Vai prendere il Phoenix Sono un po' arretrato Ci vado io Grì, di lì? Com'è? Eh, sta facendo i chi Ci prenderà Eh, veramente mi prenderà Se hai bisogno chiama, Gri Io sono dall'altra parte Sì, sì, vabbè Cerco di tenerli a bala da qua ma... Io tengo sempre il ponte a destra, io, eh Ragazzi, ti ho posizionato dentro il palazzo, il Phoenix Ok, rubalo, tienilo lì Sì, lo ho lasciato Ditemi come la situazione Ma grazie, sa che arrivano col carro Perché siamo tutt'amore La situazione è a sinistra, da voi gri, da voi gri, com'è la situazione di lì? Arrivano tutti da lì? Eh, carro, carro a sinistra. Sto a cercato di beccarlo. Oh, vengo a darmi un supporto a sinistra, va, per cari. Ho passato uno su B. Ho già finito qua. Eh, ho finito le cose. Qua, 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 ci sto io, ci sto io, tieni qua, tieni qua. Arrivano a destra, ho preso uno qua su B. Copritemi a destra voi che sto dando supporto a loro io. C'è un carro là in fondo. Il carro arriva tutta a sinistra, comunque, eh, occhio. Raga, io sono a destra, rimango a destra. Rimani a destra, rimani a destra, io do supporto da lontano. Allora, mi sta sparando il carro, però. Sta arrivando, eh. Il carro sta qua, regà. Eccolo! Sta qua, sta qua, sta qua, regà. Ma guardate il carro, no? C'è Mertin 90 libero. Guardate, no? Eh, qualcuno va a prenderlo, no? Merda. Ma l'avete, l'avete distrutto? Ma l'avete, l'avete distrutto? Ma regà, ce l'avemo dietro a scuola il carro, ma addio, caro, regà, ce l'avemo dietro a scuola il carro, ma addio, caro, regà, ce l'avemo dietro io. Sto andando a prendere il carro, l'arrivo. Vai, ne ho presi un po'. La presi? A destra li sto prendendo io. Eh, ma c'è il carro che sta dominando la vostra zona. Eh, sta arrivando, ce l'avemo dietro a scuola il carro, ma addio, caro. Ragazzi, avete bisogno di... Dai, dai, venite, 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 ecco qua. Vai, ne ho presi un po' io col peccino, che mi sto rispingendo io. Dovete distruggere sto carro, però. Ne ho ucciso uno, distrutto. Ok, grande. Aspetta, ti vengo a venire in mare, non so chiunque tu sia là in fondo. Vado io, vado io, vado io. Ah, va, ok. Sono già qui. Sto tenendo io qua tutto a destra. Piagge, nero, piazzate anche le mine. Piazzate le mine. Eh, da me, ok. Ragazzi, io lascio il carro armato dietro. Ma il carro armato nostro è spuonato. Arrivano con il Phoenix. Oh, stanno passando a destra. No, ce l'ho io. Tutti a destra stanno passando, eh, ottimo. Ragazzi, arrivano con il Phoenix. No, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Sinistra, mezzo, l'ho disattivato, l'ho disattivato. Simo, mi arrivano... Ah, ok. La raga, prendete destra. Aspetta, aspetta, Venner, vai lì in mezzo, vai, io do una mano a Simo. No, 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 no. Cecchino, preso. Sennò finito, Simo. Grazie, dai. Mi sono appostato io a destra, eh, Simo. Sì, sì, io a destra. Siete dietro di me. Carro, carro, mi fa sempre il giro. Mi fa sempre il solito giro. Simo, estrema destra sto io. Testa è un po' più a sinistra. Oh, Webber, ti riparo, ti riparo, Webber, stai fermo, ti riparo. Oh, mannaggia, la puttana. Vai che sono qua davanti comunque nemicia. Vai, hai preso uno destra. Ragazzi. Cazzo, carro. Oh, ma ce l'ho fatta a mettere queste mine. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Dovete metterle mine. Eh, infatti, mi son tolto. Eh, io non ce l'ho, io son mezzo. Simo, Simo, guardo io di qua. Simo, guardo io. Eh, cosa faccio? Stai un po' più... Guarda l'entrata un po' più a sinistra. Cerci il quattro, dai? Va bene, va bene. No. Oh, occhio, ce n'è uno qua, Dani. Via. Grazie, ma dov'è che mi toccava la malata? Eh, dieci ore. Dai, ma gli hai da alcuna. Non so, passami le munizioni. Sbrigate, prima che mi vedo. Qua, qua, qua. Ecco. Ah, mi ha preso. Dai, adesso, regali, sto spando anche io. No, mi ha preso, mi ha preso col cecchino, eh. Mi sa che mi ha preso la gamba, tipo, vabbè. Spawnerò su Venner io, eh, perché devo capire un po' come è la situazione nella loro parte. Mi ha ucciso, l'Abrams. Mi ha ucciso. Grande medico. Ragazzi, c'è un geniere da quelle parti, Gris. No, cazzo, ero io. Venner resisti. Eh, mi ha preso, mi ha preso, cazzo. Occhio, occhio. Ken, aspetta, riprendiamo su di te. Ragazzi, ce ne sono un botto di... Vai, l'ho preso quello che stava plantando, l'ho preso. Sopra, sopra, sopra. Io sto indietro. Ragazzi, danni a destra, danni a destra. Ne hanno preso. Venner, controlla la bomba B, controlla la bomba B, Venner. Mi hanno preso su A, ragazzi. Ho preso uno che plantava, ho preso io quello che plantava. Ottimo, ottimo, ottimo. L'ho disattivato, l'ho disattivato. Io, eh, su A, cacchio, però, non c'era più nessuno, su A. Vai, vai, esplodo, esplodo. Dai, vi copro da B, vi copro da B. No, no, ragazzi. Vai, disattiva. Vai, 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 vai. Vai, ne ho preso uno. Buona, buona. Bella, regà, grande. Phoenix, Phoenix da sinistra, Phoenix da fine... Ok. Eh, me... Sono entrati, sono entrati, però, verso B. Eh, ragazzi, sono dentro la casetta. Oddio, quanti c'è... Uno, due... No, non ce ne sono più. Eh, non è la mia munizione. Torno... Eh, io devo tornare... Devo tornare su A, eh, se no non riusciamo a difendere. Devo tornare su A, io. Dai, con munizione, please. Toh. Sto a destra io, eh, raga. Se riuscite, mettete le mine dietro, così non fanno il giro, che di là ci fanno malissimo. Eh, le tue, poi erano zomperate. Sì, non si chiudai le mine. Eh, no, le vado a comprare. Eh, no, le vado a comprare. Penso, vuoi venire di qua? Se qualcuno more, ditemelo. Sto controllando io il ponte centrale, Simo. Vai, 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 mi sto spostando in continuazione. Guarda, grigli, grigli su qua. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Da me cosa si fa. Mamma mia, il Peccinegg, quanto è forte. È troppo forte. Beh, rilasci, rilasci, rilasci. Dove ti ho preso? Aspetta, può venire a stare. Alla sinistra o da destra? Oh, carro, carro tutto a sinistra, carro tutto a sinistra. Eh, lo so, lo so, lo so. Mi ho preso. No, 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 l'ha preso, mi ho preso. Aspetta lì, davo con... Carro tutto a sinistra. È cercato a armatolo, piglio. Sta venendo verso di noi, sta venendo verso A, carro. Sono inchiodato. Scappo via, scappo via. Ok, sono sopra il tetto. E dai, tu sono dietro, eccomi. Dove cazzo sta? No, mi ha preso, mi ha preso con l'M60. Sta andando verso A, dove... Oh, ma queste mine, Simo, ce le ha le mine? No, no, non ce le ha le mine, c'è l'RPG. Eh, molto meglio le mine. Io so cercare a prenderla dietro, eh. Rega, io li sto sparando, è caldo. Sta plantando, sta plantando. Preso, preso, preso. Rega, io li sto sparando, lo continuo a riparare. Vai, 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 disattivato, disattivato. Di tutto. Buona. Sono fottuto. Cacchio, vai, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, quello di col javelin. L'ho preso, ripara. Sì, adesso spawno. Eh, me l'ha distrutto, il cazzo. Spawna su di me e dammi il kit medico. Spawna su di me e dammi il kit medico. Spawna su di me e dammi il kit medico. Ok, ok. Ti è sotto a 5 secondi. Vai, dammelo, kit medico. Buona. Lipertarla, eh. L'ho presi due, l'ho presi, l'ho presi, l'ho presi. Bella, rega, bella. Ecco, dai, state un po' avanzati voi, che tanto dietro ci siamo noi. Vado tutto a destra, Simo, vado tutto a destra io, eh. Dai, 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 dai. Dai, dai, io sto davanti, davanti. Raccoon, davanti, nel tunnel che c'è lì davanti. Ok, vado io a vedere il tunnel. Vado io al tunnel. Va bene, va bene. Ok, hai preso quello al... Non è nordo, vai. Carro, carro a sinistra. Oh, cazzo. Ah, il nostro carro è andato. Torno indietro. Sono preso con l'M60. No. Torno indietro a prendere il carro, rega. Lo supporto loro su Ayo, eh. K, Dani, bravo. Stai lì, Dani, che è... Sto andando a prendere il carro. Torno subito. Caputana, troia. Occhio, c'è qualcuno con l'M60 lì. Occhio, sull'edificio. Occhio, Dani, stai, stai un attimo. Sono sulle rocce a sinistra, ragga. Sulle rocce a sinistra. Finascio il kit. Grazie, grazie. Ah, regà, questi fanno il giro pure da sinistra. Stanno a fare tutto il giro da sinistra. Io ho preso due. Phoenix da destra. Phoenix da destra. Phoenix da destra. Dani dall'interale qua. Ho messo la Claymore. Ho messo la Claymore. Ho messo la Claymore. Ok, vai via di lì, perché ho messo il C4. Aspetta solo che arriva il Phoenix. No, no, no. Aspetta che arriva il Phoenix. L'ho disattivato. L'ho messo io. L'ho messo io. E io ho disattivato. Di tutto. Perfetto. Ti vengo a rianimare, Vessimo. C'è un tipo con l'M60 che non riesco a capire. Dai, sì, ma vado. Sono sui edifici, Ken. Sono sui edifici. Dani, vengono qua. A parte, non ho detto io, dove ho messo il Glamour. Aspetta, Dani. Merda, Simo è crashato. Stanno arrivando col Phoenix a destra. Io spero che passa, almeno li butto il C4. Oddio, ecco lì. Si è piantato, si è piantato. Ken, fanno il giro da dietro. Da dietro l'edificio della bomba. E vado. Vai, ne ho preso uno della vostra parte, Dani. Là, là, dove sono morto. Bravo, bravo, bravo. Il Phoenix l'ha inchiodato sotto il tunnel. Ben, hai capito? E se proviamo a fare il giro? Occhio, l'era, 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 l'era. Ok. Aspetta, aspetta. Dacu, dimmi quando ci sei, che lo distrago tutto il giro. Non c'è, non c'è, non c'è. Dimmi quando passa, più che altro. Io sono pronto col C4. No, c'è, 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 c'è. Cioè, è ancora di fermo, non si muove. Gli sto sparandolo, ne ho ferito uno, ma non muore, ovviamente. Aspetta. Se vedete riconnettersi, Simo, invitatelo, eh. Io non lo vedo. Dacu, non posso provare a fare il giro. No, non possiamo rischiare troppo, siamo in due, Wanner, hai capito? Ok. Cacchio, no, mi ha preso. Uno con le M60 dal ponte in mezzo. Wanner, se riesci il rest, mi sono aspetta che spawno. Aspetta, 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 rimani su A, rimani su A che spawno. Anzi no, c'è il carro armato, vado sul carro, vado sul carro. Arriva il carro, arriva il carro proprio dal centro. Sono andato sul carro io, eh. Regà, arrivano da sinistra. Devi tenere, Wanner, tieni, Wanner. Dani, arrivano dal cosa, da lì, da Eglevon. Sì, ho capito, ho capito, ho capito. C'è il carro lì. Morto, 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 uno è morto. Ah, ripiazzalo, A. Eh, appena mi si ricordo. Regà, sono su A, ce n'è uno, W su A. Eh, vai a ucciderlo. Ucciso, non ucciso. Eh, no, mi ha ucciso con l'Abrams, ma ho disattivato il veicolo almeno. Se gli buttate uno smab, va giù, sì. Mi dici, dove sta il swab, Raspon? È stato il loro respawn. Ragazzi, ne ho preso uno che stava su A, occhio. Da, con spawno, 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 buona. Eh, non vi chiedo là, dove sono io. Grande Wanner, grande, vado su a tenere due sopra, eh. Dov'è che è? Io vado a destra, io vado a destra. Io vado a destra. Io vado a destra, io vado a destra. Che è? L'edificio di fronte, di fronte... Di fronte a... Qua, cazzo, dritto di qua. Ok, ho capito. Cacchio, deve andare tutto a destra. Mi stanno ferendo, mi sa che non li riesco a prendere. Vai, hanno preso uno. Sto arrivando, già. Sto arrivando, già. Sto arrivando, già. Mi hanno preso con la granata, ma dai, c'era il coso davanti. Ma dai, disinnesca io, provo a disinnesca io. Regà, c'è stato anche io, ma non è stato personale. Davolo, mi hanno ucciso, non so come hanno fatto con la granata. C'è stato uno con la mitragliatrice fissa, Dani. Uno con la mitragliatrice fissa, occhio. Spawno su Wanner, spawno su Wanner. Spanculo, questa QBB. Cacchio, che sfiga. Oh, tenete B, B. Sì. Dovete andare su B, sono sul carro io. Vai, ne ho preso uno col carro. Tenete B. Non venire su di me, Venn, non venire su di me. No, 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 sto andando su B dagli altri. Devo tenere quel carro io. Cercare armato su B. Un geniere che ripara il carro di Dracum, sempre vicino. Vengo un po' giù dalla vostra squadra. Cacchio, quello sta facendo il saggio qui. Oh, che era armato, che era armato. Precisamente davanti. Minchia. Vai, l'ho ferito. Vai, vai, Dracum. Mezzo si è attivato. Sparategli se riuscite. Fatto. Vai, distrutto, però sono morto anch'io. Ma come fanno? Si riparano, raga. Fatto, vato, ho presi due. L'ho presi due e due. Wanner resisti. Un'ingegnere qua, chi le vuole? C'è un geniere nell'altra casetta. Wanner resisti. Ho preso quello con la N94, ce l'ho fatta. Rega, sulla destra c'è un geniere nell'altra casetta. Adesso vado a prenderlo. Cero io, cero io. Ok. Vado a destra a coprire io. Oh, cazzo, adesso l'ho visto. L'ho preso, l'ho preso il geniere, l'ho preso. Gregory, Gregory, Gregory. No, a sinistra, sinistra. Sinistra, sono passati tutti a sinistra. Dani, ce n'è un altro, ce n'è un altro, Dani. Cacchio. Cazzo. Non mi ero corto io. Buono. Dai, 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 dai. Vaffanculo. Non ci chiudiamo. Ehi, ragazzi, oggi è subì, oggi è subì che sto lì. Oh, davanti, davanti, davanti. No. Oh, ce l'ho resistito, esistito. Ho preso, quello di averlo preso. Dai, sono morto io, Wanner, sono morto. Eh, ci attaccano alla sinistra, ci attaccano alla sinistra in basso. Dai, stai, stai. Vai, Gregory, resisti un attimo. No, 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 no. Devo scendere veloce io. Eh. Bomberate, bomberate avete la bomba, veloci. Dai, regà, che l'ho preso di tutti. Dai, sto disattivando, sto disattivando. Eh. No, ma dov'era? Ma regà, porco dici, però. Non ci credo. Cazzo, non fa tipo di cinque, ma volete disinnescare uno? Eh, stavo disinnescando, ci aveva uno sul tetto, ce n'era. Eh, c'è il carro qui. Sto tenendo a destra, sto tenendo. Io ho disattivato, io ho disattivato, diratevi qualcosa, diratevi qualcosa. Ragazzi, sei nato allo spawn. Io Wanner a destra, voi su a sinistra, state. Dai, regà, questo sta andando giù, l'ho distrutto. Occhio! Occhio! Eh, minchia, è uscito quello lì, non l'ho mica visto. Preso, 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 preso io, preso io, tranquillo. Dai, regà, possiamo ancora stare in partita, dai. No, oh, è Wanner! Ma chi è che sta qua? Eh, siamo in due, però, c'è da dire. Sto venendo, Wanner, a coprire. State su B, voi altri, state su B. Sì, ti sono andato. Dai, regà. L'ho preso io quello che aveva piazzato, che stava su dentro al palazzetto. No, oh, a destra, a destra, sono passati, eh. Non so dove sono passati. A destra? Eh, sì. Eh, io so spawn a giù. Sto andando su B. Va, non usare il computer. B da dove? Ma va, fangulo! Ma va, fangulo! Ma va, fangulo, ce li ho io qua, allora. Benny, se hai bisogno, chiama, eh. Io mi sono a Claymore, però sto coprendo solo il lato di sinistra della bomba, qui, eh. Ne ho preso uno dove c'era A. Occhio, occhio, no, arrivano su B. Danny, Danny, torno indietro su B. Danny, torno su B. Vado a splantare, Wanner. Eh, è detto, è detto, è già compreso. No! Eh, grazie. Dai, vai, vai, tranquillo, disinnesca, disinnesca, disinnesca. Eh, disinnescate, mi hai detto che. Raga, però, che cazzo, però mi dovete dire, perché io copro una zona, ma non ne posso coprire due. Vito. Eh, io te l'avevo detto, aiuto. Eh, avevi sottornato, però, cazzo. Che l'armato c'è, lì sotto, su A, eh. No, 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 ma che cazzo passano, ragazzi, di nuovo su B. Sì, vabbè, mi ha preso, buona. Eh, buona. Buona, veramente, ragazzi. Ma vaffanculo, io non so. Ma cos'ha i joystick che... Oh, mancava un ticket, o un ticket. Io non ho parole. Un ticket, porco dice. Basta, non devi dove ti sparare. Stavano giocando stra bene, cazzo. Ma vaffanculo. Ma vai, in figa, Dio caro. Ah, madonna di Dio. Ma vabbè, sono morto, sono sotto il carro, praticamente sono morto. Eh, sono morto pure io, cazzo. Scusate, ragazzi, non l'ho fatto apposta. Mi è crashato per mezz'ora, mi è crashato, Dio creep. Ah, e entra, però. Sì, ma c'è il termine gioco, però, eh. Dai, oh, in teoria è il più semplice, questo. Ho disattivato, ho disattivato. In teoria è il più semplice, su cui, da difendere, dai, cacchio. C'è chi ha l'armato lì sotto, eh. Dovete mettere queste mine, però, eh. Ragazzi, noi vanno dalle scale interne, per favore. Eccoli. Ce n'è uno sotto, su A, nelle scale. No, ma ha preso con l'F2000. Che baffastarda. Dai, ma mi hanno preso da dietro, mamma donna. No, raga, oh. C'era chi è che ci stava su A, oh. Sto disinnescando, però. Ce ne sono due. Eh, è lì dietro, è lì dietro, è lì dietro. Ah, disinnescato, almeno. Scale, scale, scale. Mi hanno ucciso, però. È ancora lì, è ancora lì, Dieracone. Eh, grazie. Non è che posso disinnescare e fare tutto, cioè. E sono due, ora. Ma che cazzo cazzo? Ne ho ucciso uno, ce n'è un altro, subito ancora. Oh, porca puttana, troia. No, ragazzi, porca puttana. Dai, raga, dai, dai, dai. Eh, su A. Erano in due su A, cazzo. Eh, sono arrivato a provare a sconfiggere. Siamo in totale scompiglio, raga. Siamo sbilanciatissimi, sì. Dai, dai, Koon. Ah, ci ne sono due, che stanno avanzando. Sì, vabbè, oh. Sì, vedi tutti e due. C'è un teo. Oh, caro, scusa, Gris. Tranquillo, tranquillo. Sì, ma c'è lo smav o... Eh, vabbè, no. Ma io, cioè, vabbè, io devo fare 6 mini, devo riparare quello, devo sparare al carro, devo sparare a quelli a piedi, raga. Cioè, uno che mi dà una mano, cazzo, a buttare giù il cane. L'altro ingegnere dell'altra squadra però deve fare qualcosa, eh, perché non posso, perché non posso fare quelli in grado, comunque, eh. Eh, ma tutto io, no, no, no. Eh, di merda, di ocani, da quando sono entrato non ho fatto un caso. Io cambio classe, metto l'assalto. Mettete il ingegnere. Tirate giù, tirate giù il carro armato, ragazzi. No, giù, 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 giù. No, giù, 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 giù. I tirano già io col carro, col T-90. Dai, ho messo l'assalto, io sono qua, non andiamo più avanti. Che cazzo, ragazzi, tirate... Va, polizioni tutti. Beh, ragazzi, guardate, che se ce la giochiamo bene, qua... poi la puoi... la puoi ribaltare. L'ingegnere ho detto. Vale, ho preso uno. scale raga scale scale sono due dalle scale dove sono morto io ce n'è uno vai danni li ho presi tutti due bravo io caro le scale le dietro di no dalla salita dalla salita dalla salita arrivo dracul dai ok ti hanno animato ora dividiamoci per le zone di accesso qualcuno copre le scale qui qualcuno la salita e qualcuno le altre scale io copro la salita che era armato tutto destra che era armato tutto destra venner copri la salita io do una mano dove meglio capita copri dell'altra scale di la quelle che vanno sulla salita e che sto guardando le scale dell'rpg copre queste scale quad anio quelle più piccole aspetta dov'è chi è che ha bisogno di munizioni venga da me e cazzo ci stavo provando dio cristo guenner sono a fianco a te ma che cazzo che non fa rianimare o scusa simon non mi faceva rianimare non so perché uno che va a pier al carro nostro mentre io volevo rianimare vado io vado io vado io vado io vado io vado io dai 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 sto andando nella bada addio p***a si sbossa da solo in colpo singolo vai preso 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 e li errate e mettete a posto dai ok che sono iniziato a rardino sia diventato bene raga due sono finito al carro io ve lo dico a far il giro da dietro proprio venga ma dove cazzo è il carro armato no dove cazzo eccolo ok scusatemi vai 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 stiamo sparando a me il carro non so perché sono lontanissimo vai game vai game scale dietro B si sto guardando salitina raga salitina oh tutti dalla salita tutti dalla salita fatto piazza pulita buona dalle scale dietro B raga eh lo so ho preso preso grimi mi sono lanciato io per restare torno io torno io non c'era nessuno chi è sul carro c'è uno a destra a destra ho dovuto rischiare Dani perché se no andavano da quella parte no esplosivi di quattro eh vado fratella l'ho visto dopo grande game oh phoenix phoenix sulla strada gris alla tua destra phoenix sulla strada phoenix sulla strada dai che becca la mina dai dagli alberi eh bravo gris occhio che ne arriva uno subito vai ha preso la mina il phoenix vai grande game sono tutti là arrivano eh non dalle scale ma dalle scale dalle scale danni dietro di te eh sono morto ciccio eh buono scale scale quali scale quali lo preso lo preso c'è un medico c'è un medico vai l'ho preso il medico l'ho preso no qualcuno l'ho preso là dietro uno che si è andato giù dalle scale cazzo ma da riviare fatta dracoom che su uno occhio grigri dietro la soddisfazione oh phoenix 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 che mi sta bersagliando eh dai che vuole salire dalle scale esatto è salito dalle scale sale dalle scale sale dalle scale sale dalle scale cazzo no il cristo dalle scale è entrato dietro salo piano superiore salo per giro dai aspetta che passa ho ucciso l'autista ma non ho ucciso l'artiglier cazzo vai è morto grande timo grande timo in teoria è morto è arrivato dalle finestrelle sono fuori ciò no 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 dalla passarella sta plantando sta plantando preso preso eh splanta però ho plantato vaga splanta splanta oh cazzo porco giù da tani oh l'hai preso destra lo vedo lo vedo preso c'è uno sopra dietro nooo c'è uno sopra dietro come giri a destra e nel muro a sinistra della porta occhio 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 risalendo eh bravo bravo eccolo porco giù da f2000 di merda è subito lì danni ho visto ho visto ho visto ho visto phoenix 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 dove 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 ho ferito il mitragliere ho ferito il mitragliere ho finito il mitragliere venga c'è un supporto sulla destra gli ho fatto 2 cm ha fatto il giro ha fatto le scalle il phoenix è entrato è entrato si mi ha preso dietro il phoenix raga mi sa che sono scesi mi sa che sono scesi dracoon vai distrutto distrutto carro carro non so io che molto probabilmente morirò ah ok l'ho visto giri sto lì da casa al solito punto aspetta giri vado io vado io fermo fermo non ti avvicina no 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 pigliamolo venga pigliatelo voi l'ho distrutto ma io pensavo fosse dentro qualcuno ah io ce l'avevi mine non lo potevo liberare occhio che ce ne sta uno qua l'ho preso l'ho preso dove c'era il phoenix no mi ha preso restami venner restami vai stanno facendo il giro destra o sinistra e dove è morto Dani dove c'era il phoenix che abbiamo distrutto ho preso il medico ma non so se c'è un altro ho preso uno ho preso un altro ho preso un altro ho preso un altro sono tutti lì sono tutti lì mi ha preso un altro ho preso il cecchino preso preso ah cazzo spawno sul T90 spawno sul T90 spawno sul T90 raga ragazzi ce n'era uno sotto l'ho preso io Green sono dietro di te vai l'ultimo dai ragazzi grandi dai cazzo buona buona grandi grandissimi Grazie a tutti.